Attività di geometria per la scuola primaria Grazie a tutti Per provare quanti quadretti ci sono in questa figura ho pensato che già che la maestra ci ha detto che per fare questa linea si potrebbe fare su D2 e a destra D4 Io l'ho fatto con tutti e anche con i elementi più grandi L'ho spugato Vedete che viene un rettangolo Poi lo divido a metà E ho visto che il rettangolo sta giusto qua Allora per trovare quanti quadretti basta contare quanti ce ne sono qua Qua ce ne sono 10 E qua ce ne sono 4 Quindi basta fare 10 per 4 che fa 40 E qua ce ne sono E qua ce ne sono E qua ce ne sono E qua ce ne sono